Il campione è stato scelto dall'Istat, ma di contattarlo si occuperà la Croce Rossa. Entra nel vivo in Sicilia l'indagine voluta dal Ministero della Salute con la collaborazione della Regione per stimare il numero di asintomatici da coronavirus. 11.000 siciliani residenti in 120 comuni saranno chiamati dalla Croce Rossa italiana e invitati a presentarsi nei punti di prelievo più vicini, che siano ASP o guardie mediche. L'adesione è volontaria, ma il test è gratuito e servirà a capire se c'è da preoccuparsi ancora per il virus. È importante rispondere all'eventuale chiamata del personale sanitario incaricato di questa indagine, dice l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, perché si può contribuire nel cambiare le sorti della battaglia che tutti stiamo conducendo contro il coronavirus. Facciamo appello, prosegue la sensibilità dei siciliani che in questa emergenza, sino dalla fase iniziale della crisi, hanno dimostrato di essere ancora una volta un popolo straordinario. Ai selezionati sarà effettuato un prelievo e un test sierologico. Se il risultato sarà positivo e dunque si scoprirà la presenza degli anticorpi generati dal virus, si procederà all'isolamento e al tampone. L'indagine su proposta dell'Associazione Italiana di Epidemiologia coinvolge anche i medici di medicina generale e i pediatri. La ricerca, fra gli altri elementi, punta a capire quanto è inciso la pandemia in funzione di genere, fasce d'età e condizioni sociali per stabilire come contenere il contagio e valutare un'eventuale campagna di vaccinazione quando questa sarà possibile. Agli 11.000 scelti dall'Istat poi si aggiungeranno i 150.000 selezionati dalla regione. La Sicilia infatti ha promosso una propria campagna di test sierologici riservata a precise fasce di popolazione fra cui ad esempio i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, del volontariato impegnato nell'emergenza coronavirus, personale delle case circondariali e detenuti ai quali l'esame viene somministrato, anche questo gratuitamente.